Ho visto in collegamento la dottoressa Daniela Morelli dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise Giuseppe Caporale di Teramo, epidemiologa. Buongiorno dottoressa Morelli. Buongiorno a lei, mi sente? Perfettamente, se adesso la mettessero anche in onda sarebbe il massimo della vita. Come lo definisce lei, sua ex collega Fabrizio Primoli? Un fortunato? Sì, ma perché? Scusi, non ho seguito quello che è accaduto prima. No, perché lui è l'unico della sua famiglia a non essere stato contagiato dal Covid dopo aver avuto rapporti ravvicinati con altri familiari tutti positivi al Covid. E ci chiediamo come è possibile una cosa del genere. Fortunatamente? Sì, è stato fortunato, però probabilmente ha usato delle precauzioni. Non credo sia stato proprio completamente a contatto con loro. Perlomeno ha mantenuto qualche... Guardi, le dico questo, visto che lei non ha seguito la prima parte. Ha baciato sulle labbra, si può dire, il nipotino che il giorno dopo è risultato positivo. E che ha contagiato tutta la famiglia. Eh, appunto, allora... Sì, ma il nipotino probabilmente non la baciava una carica mente o come è stato un totale. Come è nel tale... Scusi, perché non vedo più... Ho qualche problema con la diaretta. Eh, però la sentiamo, la sentiamo, può andare avanti, la sentiamo benissimo. Poi il collegamento vivo lo rimetteremo a posto. Stavo dicendo che probabilmente il contatto non è stato sufficientemente, come dire, lungo per consentire l'infezione. Anche perché nel momento in cui ha baciato il nipotino, probabilmente la carica non era tale da consentire questo contagio. Dottoressa, adesso le faccio la domanda... Ci sono delle condizioni che vanno rispettate. Non è solo essere vicino a una persona per un paio di minuti o anche un quarto d'ora che determina questa infezione. Anche la carica infettante è determinata. Allora, l'IZS state studiando in maniera approfondita anche tutte le varianti e questo è Arcinoto, ne abbiamo parlato in parecchie occasioni. Adesso è venuta fuori questa notizia. I pompieri di Vigiu, era un film di Totò degli anni 60, 50-60. E Vigiu, che è una località in provincia di Varese, quasi ai confini con la Svizzera, è tornata di gran moda, agli onori della cronaca, perché ci sono tre casi di varianti in un paese che è stato vaccinato tutto, del tutto sconosciute. Non si tratta né della variante inglese, né di quella brasiliana, né di quella sudafricana. Com'è possibile che varianti continuino a crearsi, a venire fuori e il virus a modificarsi in maniera così veloce? Questo avviene, il normale che avvenga, nel momento in cui circola il virus, in qualche maniera muta, varia nel suo bagaglio antigenico. Questo avviene normalmente, quello che sta circolando attualmente non può essere considerato uguale a ciò che è venuto dalla Cina, ma già dal primo mese quello che circolava era non completamente, ma diverso da quel virus che era uscito da Wuhan. I tre casi di Diju adesso verranno studiati ed esaminati, ma destano una preoccupazione maggiore? Questo io l'ho sentito come lei, l'informazione l'ho appresa ieri dal telegiornale, per cui sì, stanno verificando effettivamente se questa variante possa interferire con l'attività diagnostica, piuttosto che con la vaccinazione, piuttosto che reinfettare dei soggetti che sono stati positivi precedentemente, però è allo studio e sono, come dire, studi che non possono essere fatti in un giorno o due giorni, quindi sono approfondimenti che richiedono tempo. Senta, dottoressa, delle varianti che state studiando, qual è quella maggiormente virale, cioè quella che infetta in maniera più veloce? Ad oggi è la variante inglese, la variante inglese sta diffondendo in maniera molto rampida, veloce e sta rappresentando quasi la percentuale più alta dei ceppi circolanti, per cui dico la variante inglese, ad oggi è la variante inglese, assolutamente, rappresenta a Chieti quasi il 75% dei tamponi positivi sono dovuti alla variante inglese, nelle altre province intorno al 30%. Anche Pescara? Pescara, sì, è anche Pescara, però consideri che noi non testiamo i campioni di Pescara, per cui abbiamo delle informazioni meno precise rispetto a quelle di Teramo, Chieti e L'Aquila, ma in ogni caso anche Pescara è la percentuale delle varianti che circolano, o meglio la variante inglese è quella più rappresentativa, assolutamente. Primo, la sua famiglia che aveva una variante particolare, cioè la variante inglese, oppure era il Covid originale? Suppongo, da quello che ci hanno detto, suppongo fosse il Covid nella sua versione originale. Cioè quello di Watt? Una variante, sì, suppongo di sì, da quello che ci hanno detto. Dottoressa, sì prego. Ripeto, tutte le varianti derivano dal ceppo di Watt, è ovvio, è evidente che nel tempo il virus si modifica, varia, però l'origine è sempre quella, è Watt, nel senso non abbiamo un altro virus. È variato, è diventato un po' diverso, ma di fatto l'origine è sempre quella di Watt. Si è parlato in questi ultimi giorni della possibilità o della probabilità che in Abruzzo ci fosse qualche presenza della variante sudafricana o della variante brasiliana, lei lo esclude? No, no, la variante brasiliana l'abbiamo individuata anche noi, quindi Francavilla, Poggio, Picenze, e l'Aquila, quindi abbiamo avuto dei casi legati alla variante brasiliana. La sudafricana no? No, ad oggi no. E speriamo che resti così, insomma. Speriamo che rimanga confinata in altri posti. Come quella nuova che non si sa di che origine sia, resti confinata a Vigiu. Ecco, quindi lei dice che è possibile che una persona possa non contagiarsi pur avendo contatti con più positivi. È successo, Geprimoli? Delle condizioni che si creano, sì, sì, dipende dalle condizioni che si creano. Chiaramente una bassa carica virale potrebbe escludere la possibilità di contaminazione o infezione di altre persone, ovvio. Quando ne verremo fuori, secondo lei? Difficile dirlo. Sicuramente la vaccinazione aiuterà a vivere più tranquillamente, però venirne fuori e quindi è difficile, nel senso che il virus comunque continuerà a circolare in altri paesi, in altre aree e quindi prima o poi ne torneremo a contatto con questo virus. È il pericolo che possa arrivare una variante che non sia possibile combattere attraverso la vaccinazione perché sfugga a quel tipo di vaccino e purtroppo si è parlato anche di questo, dei tre casi di Vigiu, poi che cosa ci costringerebbe a fare? A ricominciare tutto da capo? Oppure avendo una base di vaccino si può lavorare e modificarlo a seconda della variante? Sì, esatto, è proprio così. È ovvio che adesso l'industria farmaceutica è preparata e quindi poi sa qual è l'antigene che è responsabile dell'ingresso del virus nell'organismo, per cui produrrà dei vaccini che riescano a fermare o a impedire al virus di penetrare nelle cellule. Quindi è un po' come l'influenza, ci saranno dei vaccini che verranno utilizzati mano a mano che il virus si modifica. Lei è vaccinata? Sì, sì. Fortunatamente sì. Cosa che è avvenuta di ZS perché voi avete a che fare quotidianamente con il virus? Sì, siamo stati considerati sanitari di fatto e quindi esaminiamo tamponi per tre province, per cui è ovvio e evidente che si tende ad evitare che il personale possa assentarsi per causa Covid o comunque le attività possono essere interrotte nell'istituto causa Covid. Lei, Primoli, è vaccinato? Ancora no, ma credo che avverrà nel giro di breve. Perché i dipendenti ASL che non fanno parte di quello che è l'aspetto medico verranno vaccinati successivamente. Sì, so che è in corso di predisposizione anche il vaccino per la parte amministrativa dei dipendenti ASL. Anche perché le altre parti dove hanno vaccinato gli amministrativi ci sono inchieste da parte della Procura. Ho sentito qualcosa, sì. Ci sono inchieste da parte della Procura. Ma secondo me dipende comunque sempre dal rischio perché comunque ci sono amministrativi, amministrativi, zone amministrative in cui settori amministrativi in cui c'è un rischio maggiore perché c'è comunque un afflusso di persone che fa innalzare la soglia del rischio e altre aree che sono sicuramente più tranquille sotto questo punto di vista. Aggiungo una cosa telegrafica, brevissima. Quello che ha detto la dottoressa è verissimo al punto tale che i ricercatori di Tor Vergata nel momento in cui ho preso contatti con loro loro non è che tendono a includere tutti nel campione. I criteri sono abbastanza stringenti e perché comunque hanno sempre ribadito che non basta semplicemente avere avuto un contatto con soggetti positivi ma i contatti devono essere stati dei contatti prolungati nel tempo dei contatti stretti e dei contatti diretti e insomma tutta una serie di requisiti che si devono superare per poter essere inclusi nel campione. Quindi quello che ha detto la dottoressa è assolutamente vero. Noi ci fidiamo ciecamente di quello che dicono gli scienziati perché per me sono scienziati quelli che lavorano all'istituto zoo profilattico e lo fanno come nel caso della dottoressa Morelli ma mi viene a ricordare un altro nostro ospite che è un habitué quasi il dottor Lorusso quindi sono persone che attraverso lo studio ci stanno dando una mano. Grazie dottoressa Morelli per quello che fate. La ringrazio io per la possibilità di divulgare quello che facciamo. No, vabbè, questo è doveroso. Grazie per essere stata con noi dottoressa Buon lavoro perché ovviamente abbiamo rubato tempo ai processi dei tamponi.